Per sostenere il candidato sindaco del centro-destra, Mino Canito, al turno di ballottaggio, è giunta a Barletta la senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli. Questa mattina passeggiata al mercato settimanale per incontrare gli elettori. Il ballottaggio è un'altra partita, il ballottaggio si ricomincia da 0-0, però quello che si vede a Barletta oggi è la voglia di cambiamento, c'è la voglia di essere liberi da questa sinistra che per troppi anni ha sfruttato questa città. In merito a possibili apparentamenti per il turno di ballottaggio, Canito e Laronzulli invitano elettori e forze politiche ad una scelta nell'interesse della città e invitano il candidato Doronzo, che potrebbe rappresentare l'ago della bilancia in questa elezione, a lavorare per riunire il centro-sinistra a Barletta. Io invito Doronzo ad essere libero e a decidere per se stesso, perché penso che i cittadini non capirebbero questo apparentamento e poi io penso che perderebbe un'ottima chance per essere l'unico rappresentante della sinistra nella nostra città. Questo appello di Canito è molto importante e io chiedo davvero a tutti gli elettori di prenderlo in considerazione, ma vorrei unirmi al suo invito a Doronzo, perché è importante in un paese civile e democratico avere i due poli, avere i due poli tra centro-destra e centro-sinistra. E' giusto e sano che ci sia una parte politica rappresentata, ma è importante ricostruire da zero, senza l'apparentamento con i vari personaggi che hanno tenuto ostaggio Barletta sempre come caracciolo, lui potrà ricostruire la sinistra libera da ogni condizionamento. Polemiche, illazioni e colpi bassi non sono mancati in questo turno verso il ballottaggio. È stato girato un video agghiacciante della candidata sindaca scommegna, perché vedete, essere corrotti o sapere che qualcuno è corrotto e non fare niente, per quanto mi riguarda è la stessa cosa. Quindi nel momento in cui si fanno illazioni, che in realtà sono molto più che illazioni, sono accuse pesanti, si fanno anche nomi e cognomi, perché se tu non sai le cose, cara sindaca scommegna, le sai e taci, sei colpevole tanto quanto. Questo proposito voglio dire che ho depositato due giorni fa una denuncia al commissariato e ho depositato anche il video delle dichiarazioni della dottoressa scommegna e quindi ho anche detto al magistrato che nel caso in cui venisse archiviato questa indagine di essere informato, perché poi mi dovrò rivalere in altri termini su chi fa queste accuse infamanti in termini elettoralistici e non in termini reali. Senatore, perché votare Mino Cagnini? Per il cambiamento, per liberare finalmente questa città, come abbiamo detto, dai poteri e soprattutto dalle ingerenze esterne, in particolar modo di un potere regionale che ancora una volta viene a Barletta e viene a decidere anche qui eventuali apparentamenti.